ciao a tutti oggi prepareremo il gelato al cocco il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di riposo in freezer gli ingredienti sono panna fresca latte farina di cocco amida di mais albume d'uovo yogurt al cocco e zucchero semolato andiamo il via alla ricetta per prima cosa rimettiamo il vasetto di yogurt in frigo che ci servirà in seguito mettiamo anche l'albume d'uovo in frigo iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte la farina di cocco lo zucchero l'amido di mais e la panna chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 minuti a 90 gradi velocità 4 trasferiamo il composto in un contenitore basso e largo adesso posizioniamo il contenitore coprendolo con pellicola trasparente con un coperchio in congelatore per almeno otto ore abbiamo ripreso il composto dal freezer adesso lo taglieremo a pezzetti e lo metteremo all'interno del boccale adesso trasferiamo il composto all'interno del boccale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6 adesso aggiungiamo lo yogurt al cocco l'albume e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 il gelato al cocco è pronto serviamolo subito gelato al cocco grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.